Il 4 luglio su Rai 2 è andato in onda la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo Voyager ai confini della conoscenza, in cui Ferrara e la sua università sono state protagoniste. La puntata fa parte di una serie riguardante le bellezze di alcune città italiane e per l'occasione in rappresentanza dell'Università degli Studi di Ferrara sono intervenuti il professor Livio Zerbini, lo staff dell'ufficio comunicazione ed eventi e quello del SEA, il centro di tecnologie per la comunicazione, l'innovazione e la didattica a distanza. Il professor Zerbini è accompagnato la troupe di Voyager innanzitutto nel prestigioso Palazzo di Renata di Francia in cui grazie all'ufficio protocollo Archivi e Poste dell'Ateneo è stata presa in visione la bolla pontificia del 1391 che sancì la fondazione dell'Ateneo Estense. Dopo la visita accademica, sempre il professor Zerbini ha delineato il valore storico-artistico del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, una delle dimore più prestigiose della dinastia d'Este caratterizzato dai famosi affreschi rinascimentali concepiti su tre livelli di lettura quello mitologico, quello astrologico e quello della vita e del governo ai tempi di Borso d'Este committente di questo importante ciclo di opere pittoriche. La puntata di Voyager del 4 luglio ha avuto l'eccezionale opportunità di poter mostrare al grande pubblico un documento originale del 1391 con il quale Bonifacio IX concedeva ad Alberto V d'Este la possibilità di fondare una delle università più antiche del mondo. Allo stesso tempo questa visibilità nazionale in prima serata televisiva è stata un'importante occasione mediatica per la città e l'Ateneo di Ferrara.